Bentornati a tutti sul canale ragazzi e ragazze, oggi siamo qui con la finanza personale, ottavo appuntamento di questa serie che mi sta piacendo molto fare, spero che anche a voi piaccia seguirmi. Oggi aggiornamento mensile come abbiamo fatto fino adesso, partiamo da Bondora, l'investimento che ad ora sta rendendo di più, sta andando bene e continua col suo percorso. Ad ora su Bondora ho investito, anzi scusatemi, ho depositato 8.000 euro, ma realmente investiti sono 5.600 euro, perché vi ricordo che su Bondora puoi depositare quanto vuoi anche 10.000 euro, ma al mese vengono investiti solo 400 euro. Anche se inizio anno la cifra è di 1.000, poi l'hanno riabbassata. Quindi ad ora 5.600 euro sono quelli realmente investiti nella piattaforma. Per adesso il guadagno totale è di 146 euro circa, quindi un guadagno esiguo, ma per la sicurezza che mi sta dando la piattaforma è più che buono. Un guadagno giornaliero di 1 euro e 3 centesimi. Siamo partiti, vi ricordo, a gennaio con 18 centesimi al giorno di guadagno, ad ora siamo già appunto oltre l'euro. Bene, su Bondora questo è il rassunto. Continuerò a mettere i miei 1.000 euro mensili come ho fatto fino adesso, vi ricordo, fino a fine anno, poi un altro anno lo lascerò maturare con i soldi che saranno su depositati e non investiti e farò appunto investire tutti quei soldi rimanenti. Per adesso, ripeto, Bondora ha pieni voti e non ho recriminazioni. Aggiungo che anche Davide ha aperto il suo conto Bondora tramite il mio codice di invito, che vi lascerò anche qui sotto in descrizione. Per adesso è solo il primo mese, investendo 66 euro ha avuto un guadagno di 27 centesimi. Pensate che lui con 66 euro ad ora guadagna solo un centesimo al giorno, per farvi capire la differenza di... Però ci sta, ovviamente, sono pochissimi soldi investiti e quindi il rendimento è ovviamente basso. Però è un rendimento sicuro, di fatto, non al 100%, perché sicuro al 100% non c'è mai niente. Cioè, se domani l'Estonia viene attaccata da un paese terzo, questi soldi non si sa a che fine faranno. Però fino a una roba del genere dovrebbe essere tutto a posto. Bene, questo ragionamento di Bondora è finito. Passiamo a Money Farm invece, che si è risollevato pesantemente rispetto ai mesi scorsi, dove avevamo visto anche percentuali vicine alla doppia cifra, quindi al 10% in negativo. Ad ora siamo al 3,55% in negativo. Quindi sempre in negativo, ma la scalata verso il recupero c'è. Qui ho investito 6.000 euro fino ad ora, perché ricordo che ho messo i 5.000 euro iniziali, che si è obbligato a mettere, più poi da maggio ho iniziato a mettere 250 euro al mese e continuo a fine anno. Poi a fine anno vedremo un po' come sta andando e deciderò se cai cai di più su Money Farm o andare su una terza piattaforma di investimenti. Andiamo a vedere in particolare il portafoglio di Money Farm, che è interessante. Vi ricordo che io un portafoglio, lo ricordo in ogni video, rischio 5 su 7, quindi molto rischioso, molto basato sull'azionario, che è il mercato più ovviamente oscillante, più volatile. Quindi andiamo a vedere il portafoglio. La componente azionaria del mio portafoglio si stabilizza su un 54%, 55% praticamente. Quindi più della metà del portafoglio è investito in azioni. E vediamo che le azioni, soprattutto dei paesi sviluppati, stanno tornando in positivo. Mentre quelle dei paesi emergenti sono ancora in netto ritardo. Questo è buono perché appunto avendo molte azioni, molte asset azionari, è buono questo recupero. Vediamo anche che sta andando in positivo anche l'oro e le materie prime, quindi molto bene. Ma hanno invece i bond governativi, quindi le obbligazioni e anche i bond riguardanti l'inflazione. Anche se quelli sono veramente di poco sotto. Gli altri hanno delle negatività abbastanza evidenti e pesanti. Però pesando meno sul portafoglio si sentono meno. Per questo c'è stato il recupero. Perché quando recupera l'azionario lo sento molto di più invece di quando recupera un bond governativo o altro. Vi ricordo sempre che MoneyFarm comunque tiene una certa liquidità sul vostro portafoglio. Per essere sempre pronto a vendere o acquistare asset. Infatti nel mio portafoglio ci sono 112,81€ di liquidità. Quindi soldi che io ho messo ma MoneyFarm tiene lì fermo in caso di bisogno. Perché se devo acquistare qualcosa c'è già dei soldi svincolati da poter usare. Qui nel grafico vediamo l'andamento del mio portafoglio. Quindi questi sali scendi e vediamo che il picco più basso in realtà io ho detto 9-10% ma è stato anche più basso. Cosa che io non mi ricordavo. Il picco più basso pensate è stato dell'11,53%. Ecco questo è stato un momento abbastanza critico ed era il 16 giugno questo. Quindi il dato peggiore l'ho avuto quel giorno. Mentre adesso appunto come vi ho detto ci stabiliamo sul 3,55%. C'è un netto recupero. Anche oggi ho visto che le borse per adesso sono ancora aperte ma stanno andando bene. Ieri è a ferro agosto quindi erano chiuse. Sembra veramente che il sentiment stia andando nel verso giusto. Sempre ovviamente che non ci sia una nuova crisi a livello mondiale. Ultimo aggiornamento sulle crypto valute. Sono aumentate un pochino. Niente di clamoroso però anche quelle hanno recuperato qualcosina. Personalmente ho recuperato un centinaio di euro ma sono ancora ben sotto al mio investimento iniziale. Vediamo che bitcoin si attesta ai 23.000 dollari ad ora ed ethereum ai 1.800. Ben distanti dai 60.000 di bitcoin e i 3.000 quasi 4.000 di ethereum. Quindi c'è ancora molta strada da percorrere per cercare di recuperare. Non sono molto fiducioso ripeto sulle crypto. Sono ancora molto negativo perché se i mercati stanno recuperando mi sarei aspettato un minimo di recupero delle crypto. Invece non è così cioè sono ancora veramente in alto mare. Quindi vedremo cosa ci riserverà il futuro. Come terza opzione per un altro anno come vi ho già detto sto prendendo in esame anche in base a come andrà Moneyfarm. Però sto comunque prendendo in esame l'opzione di un quarto investimento scusatemi. Visto che Moneyfarm comunque investe sul mercato azionario e tradizionale. Bondora investe sui prestiti. Revolut investe sulle crypto valute. Sto pensando di buttarmi sull'immobiliare. Quindi anche qui investendo dando soldi a una persona che investe nell'immobiliare. Quindi per comprare o usare soldi appunto per un immobile e avere il ritorno con gli interessi un po' come Bondora. Quindi ci sto pensando e devo ancora trovare l'app giusta e il modo giusto però ci sto pensando. Ovviamente questo dipende tanto da Moneyfarm perché in base a come va quello capiremo. Ragazzi l'aggiornamento è finito qua. Spero vi sia piaciuto. Mi raccomando sempre aggiornati perché settimana prossima ci sarà un video dedicato esclusivamente a Bondora. Che appunto mi sta piacendo molto quindi ve lo consiglierò. Vi spiegherò tutti i dettagli dell'app, come muoversi all'interno della piattaforma e in che cosa consiste effettivamente Bondora. Quindi come sempre mettete un bel mi piace se vi è piaciuto il video. Lasciate un'iscrizione se non siete iscritti. Puntiamo ovviamente ai 10.000 iscritti adesso visto che 1.000 li abbiamo superati. Buona giornata a tutti, un saluto.